La preparazione tecnica e strategica particolare è attenta. Si è trattato di una banda ben organizzata, ben strutturata che colpiva gli obiettivi individuati in modo molto preciso e meticoloso. Era importante da parte nostra dare una risposta in termini operativi rapidi perché gli episodi che si sono verificati nel territorio hanno creato un certo allarme sociale sia per la gravità in sé del reato consumato sia per le modalità particolarmente eclatanti. Quindi l'attività del nucleo operativo della Compagnia di Augusta e brillantemente condotta e guidata dall'autorità giudiziaria è stata fondamentale per dare questo tipo di risposta efficace e positiva sul territorio. Come siete riusciti a ricostruire le parifasi, i colpi? L'utilizzo dell'intercettazione è stato fondamentale. Naturalmente poi l'intercettazione è conseguito poi un'attività di monitoraggio, sono state seguite, questo gruppo, questa struttura è stata seguita per un certo periodo di settimane e alla fine si è arrivati a poter quasi indiretta, se non addirittura indiretta come il caso della tentata rapina per il Asmundo, essere presenti e capire le loro dinamiche. C'era come una sorta di idea di farla franca, agire con un escavatore, portare via con mezzi pesanti, un banco, ma è una bella sfida. Quello che si è potuto cogliere in questi mesi di osservazione è che erano persone dotate di un grado, mi si perdona il termine, di professionalità molto elevato, nel senso che riuscivano a giro di pochi minuti, evidentemente frutto di uno studio attento dell'obiettivo, ad arrivare sul posto, estrarre una cassaforte dal peso diversi quintali, caricarla su un camion e portarla la via, cinturando la zona e controllando le vie di fuga in maniera accurata, quindi certamente non improvvisavano nulla, era studiato, ogni colpo era attentamente studiato. Fondamentale quindi l'uso anche della conoscenza del territorio da parte del basista? Il basista era diverso in base alle zone in cui operavano, quindi c'era uno sulla zona di Vizzino, uno sulla zona di Francofonte e uno sulla zona di Villasmundo, questa è stata la difficoltà principale, capire anche la rete di relazione che c'era tra quelli più operativi e quelli invece che facevano un lavoro di osservazione e di studio.